Lunedì 3 maggio 2021, un cordiale saluto a tutti voi, carissimi amici, radioascoltatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando attraverso la pagina Facebook di Radio ABM, attraverso il canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in Via Cavor 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani bellunesi, il Gazzettino e il Corriere delle Alpi. Vediamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti nelle due prime pagine, incominciamo con la prima pagina del Corriere delle Alpi, ecco come si apre l'edizione di oggi, di lunedì 3 maggio, festa in baita con il Covid, picco di contagi in Cadore. Il tracciamento dei contagi messo in crisi dalle reticenze sugli invitati al compleanno proibito, nella stessa zona il cluster della Messa di Pasqua conta 20 positivi nel coro parocchiale. Alla festa di compleanno nella baita a Vodo di Cadore c'è almeno un positivo Covid-19 e il virus contagia, si sviluppa un cluster che ora preoccupa le autorità sanitarie. Si aggiunga un analogo incidente che ha coinvolto le prove di un coro parocchiale, riunito per le prove in vista ancora della Pasqua. Si temono nuovi e prepotenti focolai nella zona cadorina all'indomani di questi due eventi, specialmente perché c'è chi ha anche cercato di sviare le autorità sanitarie nel tracciamento dei contatti delle persone coinvolte. Tracciamento importante in questi casi a denunciare un clima omertoso proprio le autorità sanitarie che hanno avuto difficoltà ad essere le fila dei partecipanti alla festa di Vodo di Cadore. Molto più semplice invece risolvere la situazione dei tracciamenti del coro. L'approfondimento di Aliprandi a pagina 14. Bellonesi in coda per il Pfizer, già vaccinati 518 mila veneti. L'approfondimento lo troveremo da pagina 3 a pagina 4. Altre richiami di spalla. Feltre, addio Omar, morto a 32 anni. Amici in campo per il saluto. Omar Rossi era appassionatissimo di calcio e nel campo di Foen. Domani lo ricorderanno gli amici. L'approfondimento di Curto a pagina 22. Mancano le competenze. La Bramolada lascia la DMO. La coordinatrice Lucia Farenzena lamenta scarsa professionalità a fondo sulla nomina del direttore. L'approfondimento di Dalmas a pagina 21. Ancora il caso. Pasco di Alberati. La regione tenta di salvare i contributi UE. Il nodo delle pratiche locali tradizionali in metà delle aziende belonesi ha i pagamenti fermi. Ancora le storie del Corriere delle Alpi. Borgo Valbelluna. Serra letteraria a colazione con gli scrittori. 12 appuntamenti vis-à-vis con gli autori. 6 mesi di cultura. È quel che propone la Serra. B&B tutto culturale magistralmente diretto da Chiara Alpagonovello. Un vero e proprio vivaio letterario che vedrà passare per Frontina. Autori come Marco Malvaldi e Lucio Cacciolo. L'approfondimento di Corrà da pagina 18 a pagina 19. Questa è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Leggiamo assieme la prima pagina del Gazzettino. L'edizione nazionale per poi procedere con quella provinciale. Italia. La ripresa sarà forte. Intervista al commissario dell'Unione Europea. Gentiloni. Previsioni di primavera meglio del previsto. Recovery. Soldi a rischio senza le riforme. Corsie preferenziali per attuarle in tempo. L'approfondimento di Gercov lo troveremo da pagina 2 a pagina 3. A Gordo vaccini in azienda. La Luxottica. Anche l'ultra gelo per Pfizer. L'epidemia. Vittime in calo. Mai così poche in 7 mesi. Il dato delle vittime da pandemia registrato ieri in Italia. 144 è stato il più basso da 7 mesi a questa parte. Dal 26 ottobre per l'esattezza. Alla fine di ottobre erano stati 141.117 a dicembre. Record di 741 decessi. Ancora dalla prima pagina del Gazzettino. Edizione nazionale. Il caso. Il leghista ostellari. Il dem Zan. Il duello in casa padovana dietro lo scontro Fedez Rai. Il caso. Il DDL del PD Zan. E le critiche del leghista ostellari. Al centro dello scontro Fedez Rai. L'approfondimento da pagina 8 a pagina 9. Chioggia difende Grillo Junior. È bufera sulla presidente ex Movimento 5 Stelle. Abbiamo anche un richiamo dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Feltre. Calciatore muore a 32 anni. Struncato da un tumore. L'approfondimento di scartone lo troveremo a pagina 7. Addentriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino. Breve panoramica dedicata alle notizie di carattere nazionale e internazionale. Poi passeremo all'edizione di Belluno. Pagina 2. La ripartenza. L'intervista a Paolo Gentiloni. Si torna a crescere e ripresa forte anche per l'Italia. Il commissario per gli affari economici UE. Le stime di primavera meglio del previsto. Recovery, soldi a rischio senza le riforme e corsie preferenziali per attuarle in tempo. Alcune dichiarazioni. Il 2020 sarà ricordato come l'anno in cui l'UE è passata da problema a soluzione. E ancora il veto di Mosca su Sassoli. Le istituzioni europee meritano rispetto. Ci sarà una risposta. Roma rispettando i tempi sull'invio del piano potrà avere una tranche prima della pausa estiva. Il patto di stabilità appartiene a un'altra era. La qualità dello sviluppo deve contare almeno quanto la stabilità finanziaria. Queste alcune dichiarazioni di Gentiloni che troverete in questa intervista del Gazzettino. Continuiamo con pagina 5. Vaccinazioni agli over 70. Veneto al secondo posto. Ricerca del CNR. Copertura garantita al 59%. L'Emilia arriva al 60. A media nazionale al 53%. In regione 1 su 10 ha completato il ciclo. In attesa più del 30% dei disabili. Altri 360 contagi ma si liberano i posti letto. Dati riferiti in questo caso alla regione Veneto. E il 1 maggio somministrati 38.387 farmici. Agende aperte per gli ultra sessantenni. Dalla spagnola al coronavirus. Nonna Ida vaccinata a 111 anni. È nata nel 1909. Lo scorso autunno si è contagiata. Ma è riuscita a superare la malattia. Siamo a Padova. Domenica ore 12.30. E questo è il momento in cui nonna Ida Zaccarato. Una roccia di 111 anni che ha già sconfitto il coronavirus. Scrive un'altra pagina di una storia meravigliosa. Poi senza rendersi conto fino in fondo della portata storica del momento. Si sieda a tavola. L'aspettano fettuccine, pollo e verdura ad emozionarsi allora il figlio Pietro, 77 anni. La mia mamma continua a sorprenderci già perché questa straordinaria signora di Padova ora è tra le più anziane vaccinate d'Italia. Dopo aver vissuto tutto quello che solitamente gli alunni delle scuole superiori studiano in quinta dalla pandemia della spagnola alle due guerre mondiali, Ida diventa anche protagonista della campagna vaccinale più importante e imponente della storia. Ed ecco, per chi si sta guardando da Facebook o YouTube, il medico del Luz numero 6, Euganea, che inietta il siro a nonna Ida Zaccarato, ripeto, 111 anni. Pagina 6 del Gazzettino, rimaniamo in Italia, vitemi finalmente in calo, mai così poco in sette mesi, vaccini, test sui bambini, ieri 144 decessi, in alcune regioni l'obiettivo zero morti è vicino, diminuiscono i ricoveri, Pfizer chiede il via libera a giugno, può partire l'immunizzazione degli under 15, ma gli esperti invitano alla prudenza molti nuovi contagi in campagna e in Lombardia. Le vacanze al tempo del Covid sarà un'estate migliore, ma tutti con mascherina, l'esponente del commentato tecnico immunità di greggio solo in autunno, i rischi sono ancora troppo sottovalutati, no a bagni di folla come la festa per l'Inter, come si può vedere da questo scatto, davvero tristissima questa fotografia. I centri vaccinali nelle località di vacanza possono essere utili, ma non sono risolutivi. E una notizia riguarda anche una storica e importante azienda del belonese, ma ovviamente di carattere internazionale, parliamo di Luxottica, Luxottica pronta a vaccinare gli operai comprati in frigo per conservare le fiale, il colosso degli occhiali garantisce anche la catena del freddo per qualsiasi tipo di siero. La battaglia all'omofobia, il caso Fedez censurato, Rai pronta a fargli causa, ma PD e Movimento 5 Stelle via i vertici. La TV di Stato vuole denunciare il rapper per la telefonata registrata e pubblicata, l'attacco alla Lega sul DDL Zan scatena la bufera Salvini, polemiche tutte di sinistra. La solidarietà dei colleghi, Vasco Rossi, questo è buon servizio pubblico e Celentano è stato coraggioso. In pieno conto alla rovescia per il rinnovo dei vertici Rai, sul palco del concertone del primo maggio è scoccata la scintilla che ha innescato una polemica violentissima sulla Rai, sul disegno di legge Zan contro l'omofobia che nei prossimi giorni sarà votata in Senato. Protagonista del caso, il cantante Fedez, che in poche parole prima ha attaccato la Lega perché contraria alla legge Zan e poi ha accusato la Rai, emittente che ha trasmesso il concertone, d'aver tentato di censurarlo. L'effetto è stato quello di un gigantesco polverone con la Rai che ipotizza una denuncia contro il cantante, ma soprattutto con la politica che per tutta la giornata ha bombardato il quartiere generale di Viale Mazzini. Da Giuseppe Conta, Luigi Di Maio, da Enrico Letta, Nicola Zingaretti, da Andrea Orlando a Stefano Patuanelli, tutti hanno chiesto nuovi vertici e soprattutto invocato una nuova governance libera da condizionamenti partitici. Tanto che in serata Matteo Salvini, dopo aver attaccato Fedez, ha sintetizzato la giornata parlando di una polemica tutta interna alla sinistra. Ancora politica, Draghi prepara la rivoluzione, nuovo amministratore delegato senza sentire i partiti. Notizia che riguarda sempre la Rai, Salini e Foa fuori a giugno per i nuovi vertici in corso. Andreatta e molti interni, ipotesi di riforma della legge Madia per un presidente di garanzia pensionato. Ma continuiamo con le notizie che riguardano il nostro paese. Stupro difende il figlio di Grillo Bufera sull'ex Movimento 5 Stelle. Chioggia, polemica per i post su Facebook della presidente del Consiglio Comunale. Deve dimettersi lei tutto fango. La baby gang si scatena, spedizione punitiva al bar. Siamo in Veneto, in provincia di Treviso. Conegliano, il raid è tra i tavolini in piazza Mazze e sedie contro tre giovani macedoni. Polizia, sulle tracce di dieci ragazzi dell'est, hanno agito in mezzo a famiglie e bimbe. Ed ecco alcuni giovani tra i tavolini del bar dopo l'aggressione in piazza Cima a Conegliano. Passiamo adesso alle notizie che riguardano la provincia di Belluno. Leggiamo assieme quindi l'edizione del Gazzettino di Belluno. Troviamo immediatamente la prima pagina. Eccola qui. Abbiamo ovviamente un richiamo riferito a quanto trovato anche nell'edizione nazionale che ci porta in luxottica vaccini. Tutto è pronto, agordo lettere dipendenti. Date la vostra disponibilità così vi farete trovare pronti. Non appena sarà possibile partire. Già comprati anche i frigoriferi per l'ultrafreddo da meno 80 gradi in provincia. 50 aziende disponibili a immunizzare in proprio. E a proposito di coronavirus, il bollettino in sole 24 ore immunizzati in 2300. Nuovo record di somministrazione di vaccini. Nelle ultime 24 ore sono stati 2300 a quegli offerti dall'USL, Dolomiti e Bellunesi. Un numero impressionante che potrebbe permettere, prima del previsto, di aprire anche ad altre fasce di età. L'approfondimento lo troveremo a pagina 2. Turbativa d'asta. I tre indagati pronti a parlare sulla gara del gas. Perenzin, Zanolla e Piccoli faranno dichiarazioni spontanee. Borgo Valbelluna, l'apicoltura e ladri rubano pochi spiccioli. Ladri e a Tricchian hanno forzato la porta dell'apicoltura a Piol e si sono portati via la bombola del gas, un televisore e un po' di spiccioli. Omar muore a 32 anni stroncato da un tumore raro. Muore a 32 anni stroncato da un tumore raro. La vita di Omar Rossi si è interrotta sabato a causa di un terribele carcinoma che in poche settimane lo ha portato via dalla sua famiglia. L'approfondimento di Scartone lo troveremo a pagina 7. Valle di Cadore, salvataggio della chiesa di San Martino. Alvia oggi l'apparizia geologica delle colle. E ancora la foto di copertina. Calcio a 5, intervista a Dos Santos che lotta contro un cancro. Ho paura ma voglio tornare a giocare. Cristian Xavier Dos Santos in posa dopo uno dei tanti gol che nelle ultime quattro stagioni ha segnato con la maglia del sedico di calcio a 5. Martedì scorso è stato operato per l'esportazione di un carcinoma dopo la diagnosi di tumore ai testicoli. L'approfondimento di Padrin a pagina 11. Adentriamoci quindi all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno. Notizia messa in primo piano ci porta in luxottica ai lavoratori prenotate il vaccino. L'azienda scrive ai dipendenti comunicateci fin da subito la disponibilità per farvi trovare pronti quando si potrà cominciare proteggersi. È un diritto. Sono 50 in provincia le società che hanno dato disponibilità a Confindustria. E a proposito di vaccinazioni, nuovo record 2300 immunizzazioni in un giorno. Ieri 14 nuovi e positivi. In totale i belonesi con il virus sono 479, 34 le persone ricoverate, 3 in terapia intensiva. Sempre da coronavirus il primo fine settimana in giallo non decolla. Traffico in caro del 28%, poche rispetto a sabato precedente le auto in transito. Il brutto tempo azzoppa le speranze degli operatori turistici. In Alto Adige con tampone negativo si può stare al ristorante perché da noi non si può fare a chiederselo diversi ristoratori belonesi. La buona notizia batte il covid e spegne 100 candeline. Parliamo di VAS Elena Franco che ha festeggiato il suo centesimo compleanno il 22 di aprile. Tanti auguri anche da parte nostra cara Elena. La Maiga sfida il meteo ma la buona volontà non basta. Rin Bianco del Misurina ha inaugurato la stagione estiva. Continuiamo con pagina 5 del Gazzettino di Belluno. Memorie difensive e documenti. La nostra verità sulla gara del gas. Questa mattina le gare di Perenzin-Zanolla ai piccoli, indagati per turgativa d'asta, depositeranno gli atti al pubblico ministero, chiederanno tutti di poter rilasciare dichiarazioni. I tre erano stati intercettati attraverso un programma spia installato nei cellulari. La ricorrenza primo maggio alla Gaggia. Temiamo i drammi sociali. Notizia che ci porta in una delle case di riposo presenti in provincia di Belluno. Pagina 7, chiesa imbrattata dai vandali, condanna social del parroco, scritte sulle pareti del Battistero, rifiuti e porte scambiate per toilette. Don Balcona ha postato su Facebook le fotografie ricevendo solidarietà. Notizia quindi che ci porta nel Feltrino e in questo caso a Feltre. Ma rimaniamo nel Feltrino. Cesio Maggiore, Val di Cansoi, l'alloggio per i turisti pronto entro fine anno. Il Comune acquista gli arredi delle stanze. Il costo 28.000 euro. E purtroppo invece il dramma che ha colpito la comunità di Feltre. Muore a 32 anni. L'addio a Omar, calciatore feltrese. La vita di Omar Rossi si è interrotta sabato a causa di un terribile tumore che in poche settimane lo ha portato via alla sua famiglia. Omar è morto a soli 32 anni. La notizia è di quelle che lasciano le comunità senza parole. Un giovane, sempre gentile e solare, amante della festa e della compagnia, si è spento nel fine settimana. Un mese fa la terribile scoperta. Un tumore raro ai polmoni. Subito i sanitari dell'ospedale di Feltre non solo hanno cercato di fare il possibile per sconfiggerlo, ma per Omar non c'è stato nulla di fare. Un male troppo aggressivo da sconfiggere. È morto sabato all'ospice Levette di Feltre, lasciando nello sconforto più totale la mamma Katia e il fratello Alan. Una delle grandi passioni di Omar era il calcio. Ha giocato nelle giovanili della feltrese calcio per poi entrare in varie squadre di terza categoria e del centro sportivo italiano come la lamonese La Farrentina in quadrifoglio ed attualmente giocava nel Vignui. E sono proprio coloro che hanno calcato i campi da calcio con lui che in queste ore lo hanno voluto ricordare anche nei social. Lamon, avanzo di amministrazione tra lavori e sociale. Passiamo a pagina. 8 escursionisti estivi tra la neve recuperati di notte erano saliti fino a 1750 metri con scarpette da trail, poi si sono bloccati. Risparmiati da vaia e covid, grazie con un capitello votivo, notizia che ci porta a Colle Santa Lucia, inaugurato il Crist del Grammarze, voluto dall'Unione di Ladin da Colle. La nostra gratitudine è rivolta al cielo e poi la riconoscenza verso i volontari. Borgo Valbelluna, ladri, arraffano spiccioli e una bombola del gas. Colpo nella notte all'apicoltura Piol, 130 euro di bottino. Ponte nelle Alpi, ubriaca, spasso con la panda, violando il coprifuoco notturno. Cencenighe muore all'improvviso a 52 anni, il cordoglio dei bellunesi nel mondo. Lutto per la famiglia ex emigranti della Gordino, venerdì mattina all'età di 52 anni è mancato improvvisamente il figlio della presidente Lucia De Toffol. Mauro Macutan era nato a Schiafusa, a Svizzera, il 14 luglio. Del 1968 risiedeva a Cencenighe. Figlio di Lucia e Gianni Macutan faceva parte di quella generazione di bellunesi che ha vissuto il fenomeno migratorio sulla propria pelle. Dopo la prematura morte del padre, Mauro prese in mano la ditta di famiglia che si occupava nella gestione di impianti termosanitari. Siamo in Cadore, partono i rilievi sotto la chiesa, possibili boati, sono solo prove. Il sindaco Offer avvisa la popolazione capire le condizioni del sottosuolo. Cortina d'Ampezzo, la festa dei Santi Patroni, con solo due celebrazioni. E ancora, morto in casa, lo scopre il vicino. Siamo a pieve di Cadore. Il vicino di casa non lo sentiva muoversi da almeno un giorno. Così, avendo le chiavi, ha aperto la porta e lo ha trovato morto. Vittima di una vita difficile, Alessandro Di Biasio, nato il 12 aprile del 77, originario di Roma, dove vivono ancora i genitori. Il vicino ha immediatamente chiamato i carabinieri della stazione di pieve di Cadore, intervenuti per i rilievi, assieme a un medico che ha accertato la morte per cause naturali legate a una vita condotta al limite. Passiamo all'agenda del gazzettino di Belluno. Porca la Beverlys è diventata un fantasma. Cartoline dal Pelmo. C'era una volta un bel paesino adagiato davanti al maestoso masso della Croere, diviso in due dal rabbioso Boite. Due ponti, uno vecchio, quello di Marceana, e uno nuovo, nato vecchio, come il primo che collegano il centro del paese con l'elegante e sussiegosa Villanova, la Beverlys del Cadore. Leggete questo approfondimento, questa cartolina del Pelmo, a firma di Enzo Bozza. Passiamo adesso invece a leggere l'edizione delle Corriere delle Alpi e addentriamoci immediatamente al suo interno. Leggiamo le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima notizia la troviamo a pagina 4 ed è la notizia che ha aperto come notizia principale questa edizione del Corriere delle Alpi. Festa in baita con positivo picco di contagi. Nuovo focolaio in Cadore. Sviato il tracciamento dei contatti. 20 infettati nell'ambito di un coro dopo la messa di Pasqua. L'articolo a firma di Irene Aliprandi. Due ingenuità che rischiano di costare care al Cadore. La più recente risale al weekend del 25 aprile quando in una baita della zona di Vodo di Cadore un gruppo di giovani si è riunito per festeggiare un compleanno. Alla festa c'erano almeno un positivo al Covid-19 inconsapevole che ha sicuramente già contagiato almeno altri 5 amici ma nei prossimi giorni i medici ritengono che il numero potrebbe crescere. Il problema più rilevante rispetto alla festa di Vodo è che alcuni dei partecipanti hanno cercato di sviare le autorità sanitarie impegnate nel tracciamento dei contatti per il timore delle ripercussioni visto che la festa si è tenuta violando le disposizioni anticontagio in vigore in quei giorni ma anche per evitare le quarantene. I presenti all'assembramento durante il quale pare che nessuno abbia preso le necessarie precauzioni non sono ancora stati completamente tracciati e questo significa che potenzialmente il virus si sta diffondendo senza controllo all'interno delle famiglie e tra le amicizie dei partecipanti alla festa. Solo nei prossimi giorni si capirà quale dimensione avrà raggiunto il cluster della festa di baita a Vodo. E a proposito di coronavirus in provincia di Belluno questo è il bollettino nessun decesso nelle ultime 24 ore 14 i nuovi casi. Successo all'imana acceso maggiore per le sedute straordinarie di sabato in coda in anticipo per fare il vaccino tutti vogliono tornare a vivere. E anche il Corriere delle Alpi dedica spazio all'iniziativa dell'azienda Luxottica della multinazionale Luxottica che si prepara alle dosi in fabbrica SMS per i dipendenti. Sempre a proposito della pandemia del belonese pagina 5 del Corriere delle Alpi il primo maggio in casa di riposo un anno di lutti e solitudine. I sindacati hanno scelto di celebrare la giornata con i lavoratori simbolo della pandemia. Andiamo avanti con le notizie che riguardano la provincia di Belluno. Passiamo a pagina 13. Territorio, il ruolo chiave, le aziende che tornano e i mondiali sostenibili. Palazzo Bembo, 22 aprile, territorio. Se c'è una parola chiave, anzi una parola centro di gravità dell'appuntamento belonese di top 500. Martedì 20 aprile il primo della serie è sicuramente territorio, un valore aggiunto per le imprese e per la comunità. Lo hanno sottolineato le storie aziendali e racconto di come il belonese si è preparato a ospitare i mondiali di sci e ora le Olimpiadi invernali 2026. Pagina 15. Allevamento, alberi nei pascoli, la regione si muove un censimento per salvare i fondi. Avviato il riconoscimento delle pratiche locali tradizionali, maggiori certezze sui contributi dell'Unione Europea. Era necessario un intervento legislativo regionale? La struttura è già lavoro, non si parte da zero. Nense, direttore di Coldiretti, è un problema che si trascina da tempo, pagamenti fermi da due anni per metà aziende. Pagina 16. Trovato morto in casa, ma allora è fulminante per un uomo di 44 anni, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino. Notizia di spalle, cincenighe, notte da lupi in quota e scorsionisti salvati dal soccorso alpino avevano scarpe da trail. Borgo Valbelluna, ride contro gli apicoltori, rubate monetine TV e una bombola del gas. Sedico, uscita autonoma a Gresal, uscita autonoma sabato pomeriggio per una Ford a Sedico in località Gresal. A bordo c'era un uomo A.S, queste le sue iniziali di 45 anni e una donna SB di 37 anni. entrambi medicati in pronto soccorso per lievi ferite. Il caso, incursione della faina alla fattoria del Piave, scempio del Pollame. I gestori Elisa Dacanal e Damiano Prizzon non mollano, investiremo su protezioni più efficaci per difenderci. Ed ecco uno scatto delle galine lasciate a terra nel Pollaio dall'incursione di una faina alla fattoria del Piave. Si sa che la faina è ghiotta del sangue del Pollame, ecco perché i corpi di queste galine sono rimaste lì. Il progetto di Belluno, sistema anticornacche per proteggere le rondine e ancora preziosa per la ricerca di persone. Ecco le unità cinofile da soccorso affelte da dieci anni operano i volontari presieduti da Luigi Centa. Gli alpini di Belluno possono contare sul gruppo Fiammetta. Pagina 18, cartellone di eccezione a Borgo Valle Belluna. Ed ecco la protagonista e l'artefice di questa iniziativa parliamo di Chiara Alpago Novello, una serra letteraria. Villa Alpago Novello apre le sue stanze ad ospiti autori. Un micro bed and breakfast nella dimora settecentesca di Frontin, Tricchiana. La discendente Chiara ne fa il fulcro di una serie di incontri estivi. Il restauro prosegue nel finile. Si lavora per ricavare una comoda sala relax e uno spazio dedicato allo yoga. Ritorno alle origini tra i libri e relax. La padrona di casa organizza ritiri di tre giorni tra letture ed enogastronomia. Ed ecco uno scatto della villa settecentesca diventata anche bed and breakfast ma anche centro culturale. Davvero complimenti alla bellunese Chiara Chiè, giornalista di esperienza per riviste di moda e glam rientrata da tre anni in provincia di Belluno. E sempre a proposito di questa iniziativa, colazione con Malvaldi, 12 eventi per l'estate. Tra gli ospiti lo scrittore Re Cami, l'editore La Terza e il giornalista Caraccio. L'appuntamento quindi importante in questo bed and breakfast della provincia di Belluno. Pagina 20. Lo sport come riscatto dalla disabilità alse un riferimento per chi fa agonismo in costante crescita al numero di atleti che si affida all'Associazione dei Pellegrini. Indichiamo alle persone la via per nuove potenzialità. Continuiamo con la lettura del Corriere delle Alpi. Siamo a pagina 21. Turismo preso alla leggera. La marmolada esce dalla DMO. Primo giorno di servizio oggi di Giuliano Avantaggi come seat manager delle colline unesco di Conegliano-Valdobbiadene. Il belunese lascia dunque la DMO. È già scattata la roadmap per individuare la nuova governance, ma i problemi non mancano. Lucia Farenzena, coordinatrice del Consorzio Turistico Marmolada e Valpettorina, sbatte la porta e se ne va. Il suo esempio potrebbe essere seguito da altri. Ci dispiace e chiediamo di pazientare, commenta Roberto Padrin, presidente della provincia. Entro metà maggio i soci dovrebbero nominare il nuovo direttore e per quanto riguarda il responsabile marketing stiamo selezionando le adesioni, che sono 12. Padrin conferma anche che c'è tutta l'intenzione di procedere a una riforma della struttura senza tuttavia fare anticipazioni. Dolomiti bus inutile a spese dei lavoratori. Fin Faizal denuncia. E andiamo avanti con le notizie del Corriere delle Alpi. Siamo a pagina Feltre. Anche il Corriere delle Alpi dei Caspazio purtroppo ha lutto che ha colpito la comunità feltrina. Se n'è andato a 32 anni stroncato da un tumore. Addio a Omar Rossi. Pochi mesi fa la conferma della forma rara e aggressiva legatissimo alla mamma, la passione per gli amici e al calcio. Ed ecco uno scatto di Omar Rossi perché ci sta guardando su Facebook o YouTube. Ma rimaniamo a Feltre, l'iniziativa dell'Ampi, i luoghi della resistenza in tour sui pedali per onorare i partigiani. Due notizie che ci portano a pedavena. Lavori ai campi di bocce, migliora il drenaggio e ancora 400 mila euro per i cimiteri e le luci. Passiamo a pagina 23 con la rubrica Cultura e Società. Il monumento, una firma veneta per il progetto Colosseo. Lo studio Milan vince il bando per l'arena. Una copertura leggera in legno che restituisce la visione antica del palcoscenico. Fine dei lavori nel 2023. Ma c'è chi contesta. Il romanzo è la realtà, tormenti amorosi e scoop del giornalista triste. Le foglie muovono il vento. Nuova fatica di Lino Lovo. E ancora, passiamo invece adesso allo sport. Pagina 24. Tante le notizie riferite allo sport belonese. Come sempre, per quanto riguarda l'edizione del lunedì del Corriere delle Alpi, incominciamo con il calcio di Serie D. Il recupero Belluno, Maidomo. Clodiense acciuffata all'ultima istante. Al 91esimo, Pet G decide una mischia e risponde al gol locale realizzato da Gioè. Nel primo tempo, tanti dubbi per un gol annullato alla squadra di casa. Uno a uno tra Clodiense e Belluno. Union Feltre, emergenza per la gara con la Manzanese. Mercoledì sono fuori Bedin, Trevisan, Tassotti e Dibril. In dubbio anche teso, Fantinato è però fiducioso. Il pare di Mestre ha dato morale all'ambiente. E continuiamo con la terza. Nanna, scusate, con sempre calcio, eccellenza femminile. Il Keralpen si sblocca. Cinquina al Pesaro. Gara senza storia contro le Marchigiane, mai in partita. Premiata Francesca Scott, che lascia dopo 28 anni di carriera. Keralpen 5, V Spesaro 0. Questo è il risultato finale. Ed ecco qui la veterana Francesca Scott, il tecnico pinto. Nostro obiettivo è fare crescere le più giovani. Calcio a 5, Serie B. Sedico pari a Verona. Sabato nei play-off sarà già rivincita. La Giori, che chiude al quinto posto, e sfiderà ancora gli scaligeri. Lambarchi e Storti regalano un punto nell'ultima giornata. Ancora calcio a 5, ancora a Serie B. La Conottieri saluta con una sconfitta. Risultato ininfluente. Il Chiuppano vince alla spessa arena contro i bellunesi. Il successo del Pordenone aveva reso impossibili i play-off. Continuiamo ancora con le bocce. Boccia a 2, girone est. Dolada mette sotto il Maxim. Il Pedavena vince e rimonta. Gran fine settimana per le due bellunesi, che conquistano punti preziosissimi. Eccezionale rimonta dei Birrai, che alla fine del primo turno erano 8 a 0. Notizia di spalle. Tuffi niente sincrono per Noemi Batchi alle Olimpiadi di Tokyo. Mountain Bike fara di Soligo, parla bellunese, dominano Savi e Lamarchete. Ciclismo giovanile, arrivo in solitaria per Gris, sul traguardo di San Fior, primo successo in carriera. Curling femminile ai mondiali di Calgary, Italia, impatto duro a quattro sconfitte nelle prime quattro gare. Tra le cortinesi del team, è bellunese anche la coach Caldarte, le ragazze tradite dall'inesperienza e dall'emozione. Atletica, Cecchiette d'Arold, primi a Trento, due i secondi posti a San Biagio. Ottimi risultati nel weekend per le società bellunesi. In due importanti meeting, Chiara Bedole e Lucia Arnoldo Dolomiti, migliorano i limiti personali nei 1500. Ancora sport bellunese, volley, serie C femminile, Feltre bello a metà e sconfitto al quinto. Zannina e compagne sono rimontate per due volte, poi battute al tie-break, complice un po' di stanchezza. 2-3 tra Feltre, Reschiglian-Stra. E ancora, questa squadra tecnicamente sta reggendo la categoria, l'analisi del coach Carpene. Continuiamo con lo sport bellunese, volley, coppa di prima e seconda divisione, Castione pronto riscatto, Santa Giustina vince ancora. Volley, serie C femminile, GS battaglia col Poiana, e poi arriva il primo successo. ci sono voluti quattro tiratissimi set per avere la meglio sulle agguerrite vicentine, la vittoria ridà slancio al sestetto di Sedico, reduce da due sconfitte al tie-break. Scopel, stavolta ci abbiamo messo la giusta grinta, abbiamo vinto un ulteriore approfondimento, riferito appunto alla vittoria del GS, che ha vinto contro il Sossano 3-1. Ancora volley, serie C maschile, la Spess dura appena un set, poi c'è solo il Torrebel vicino, ennesimo capo del giovane sestetto belunese, contro un avversario non irresistibile, prova positiva per Golla, ma l'esperienza dei Vicentini ha fatto la differenza. Palavoro le finali di Champions a Verona, Limoco con Eliano sale sul tetto d'Europa, starà ordinaria partita e vittoria al quinto set contro le fortissime turche del Vakif Bank, con 41 punti di Paola Egonu. E una notizia ci porta a parlare di calcio di Serie A, festa Inter, ecco servito il tricolore numero 19, Conte esulta la mia sfida più difficile, esplode la gioia dei tifosi, Zang sventola il bandirone sul tetto della sede, l'allenatore persi, pensiamo ai prossimi step. E una foto però che deve farci veramente riflettere ai tempi di un'emergenza sanitaria, vedere questa piazza così gremita di tifosi fa davvero riflettere. Andiamo avanti con le notizie che riguardano invece le previsioni del meteo in Veneto per la giornata di domani. Prima di salutarci, tempo in parte soleggiato, contrastito di nuvorosità medio-alta dalle ore centrali e locali annuvolamenti sulle zone alpine e prealpine, precipitazioni possibile, qualche piovasco rovescio al pomeriggio sui rilievi e zone pedemontane, venti in penura moderati, tesi da sud-est sulla costa e zona orientali, deboli moderati da sud-ovest e sulle zone interne. Mare da calmo a poco mosso localmente emesso a sud, mosso a sud in serata, temperature minime in aumento sulle zone alpine e stabili o in lieve altrove. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera alle 20, domani mattina a l'una, ora locale italiana. Vi ricordo anche l'appuntamento con la prima puntata di un nuovo programma di Radio ABM dedicato al rapporto, al confronto generazionale tra giovani e anziani in provincia di Belluno. La prima puntata vedrà come il protagonista Franca Gervasi andrà in onda questa sera alle 21, ora locale italiana via streaming sulla nostra, direttamente dalla nostra web radio Radio ABM. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, come sempre in compagnia di Radio ABM, la web radio dell'associazione bellunesi nel mondo. Grazie.